E' festa grande in casalengua e in mattinata è nato Enea, primo genito di Papa Francesco e della neomamma Teresa Colacino. Il piccolo è il primo bolognese del 2018 venuto alla luce nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale maggiore. 2,870 kg per 50 cm di lunghezza Enea è venuto al mondo dopo un travaglio di 12 ore. Devo ringraziare la ragazza che mi ha aiutato, si chiama Manuela, ma è stata veramente bravissima, preziosissima. C'è una pazienza assurda, oltre a lui naturalmente e a mio marito, quindi è stato veramente difficile ma è stato bello. Originario di Rimini, il neopapà è agronomo, la mamma è della provincia di Crotone e lavora per un'agenzia per il lavoro e da diversi anni vivono a Bologna. E' il primo figlio, esatto. Tardi ma è arrivato, quindi siamo contentissimi, è stato molto molto atteso. E' un'esperienza forte, molto intensa, molto bella che consiglio assolutamente a tutti i papà. Stessi sorrisi e stessa gioia all'ospedale Sant'Orsa dove è nato Daniele, primo figlio di Luigi Pastore e Rossana Vasciaveo. Tutti e due hanno 35 anni, da una decina vivono in città. Lui lavora presso un'azienda di San Lazzaro, Savena Rossana, invece dipendente dell'Università di Bologna. Si chiama Daniele Pastore, pesa 3,375 kg, lungo 51 cm. Il travaglio è stato un po' così travagliato, però è andato tutto bene, è sano, mia moglie è contenta. Sono stato dentro fin dall'inizio, è un'esperienza coinvolgente, perché poi il personale del Sant'Orsola qui mi ha praticamente detto cosa dovevo fare, mi sono trovato immerso a mantenere la gamba di mia moglie, a dire spingi, spingi, e poi ho visto fuori la testolina del bambino, poi dopo tutto il corpo uscire, e lì è una gioia irrefrenabile, le lacrime uscivano da tutti, perché c'erano sorrisi e contendenza da tutte le parti.